Aspettiamo che dicano il vincitore, così non la disturbo, poi dopo le faccio due domande. Sì, ma se non sono io il vincitore, le domande me le fa lo stesso? Sì, certo. Perché io per le domande rinuncio anche alla vincita. No, non ci mancherebbe altro, non se ne parla proprio. Ma che domande, su che genere? Sì, quello che volevo sapere era, uno, da quanto tempo viene qua in vacanza? Dunque sono 36 anni. Quanti? 36. 36? Io ho cominciato con la Maria Toni, quando avevano la pensione, quei ragazzi qui, Leandro, è il primo, io li ho visti che erano giovanotti. Ah, pensa! Quindi lei è ospita adesso dell'esigenza di Leandro? E invece la Claudia, praticamente la sua, è quello di primo, li ho visti a nascere. Dunque... Ah, caspita! Quindi ormai è come se venisse a casa sua. Era un bambino... Vedo la signora che dice sì a la signora. Io ero, io ero un bambino quando avevo solito, e lei era già vecchia, ma io ero un bambino. Ma pensa! E quindi, cos'è che l'ha fatta scegliere e tornare tutti gli anni qua? Guarda, io sono di Ferrara, ma non provincia, città ferrarese. Io ho mia mamma che è di Migliarino. Io potevo andare là da noi, che i miei genitori sono di Comacchio, però non sono mai andato in quella parte là, sono sempre venuto a quella parte qui. Anche da giovane, perché io, siccome ero salumiere, era cartone salumiere, con gli amici di salumeria, una volta siamo venuti a Milano con il treno, siamo partiti da Milano, eravamo in sei, tre borse di plastica con dentro due paia di slip a testa. Gli abbiamo attaccati al finestrino, siamo arrivati a Rimini, siamo sesi, abbiamo lasciato persino le buttande sul treno. Gli abbiamo voluto a comprare qui. Bellissimo. Dunque, praticamente, io che vengo qua, con la moglie e i figli, 36, ma io ho una quarantina d'anni. Ma pensa! E quindi ci sono... che cos'è? Le rifaccio la domanda, che cosa le ha fatto scegliere di tornare qua sempre? E' proprio il mio sangue. Io praticamente... guarda, io ho... avendo avuto negozio per 35 anni, non un giorno, a Milano, in centro, io ho tanti di quegli amici industriali, che loro vanno a San... Gli studiou il nostro canale, è..... Singing. ... Grazie a tutti.